Salve amici, benvenuti in Like a Gentleman. Durante i vari episodi andremo a scoprire come diventare dei veri gentiluomini. Buonasera amici di Like a Gentleman, vi presento Carlo, regista, attore, surfista e astronomo. Nel corso di questo programma vi spiegherà come si comporta, si veste e agisce un vero gentiluomo. Buona visione! Questa parola, gentiluomo, non deve farvi paura, non deve essere sinonimo di sofisticato o di snob. Un gentiluomo è semplicemente una persona che si distingue per classe ed educazione. Molte persone pensano che il massimo della raffinatezza consista nel guardare gli altri dall'alto al basso. Niente di più sbagliato, perché questo è solo il massimo dell'ignoranza. Al giorno d'oggi spesso ci dimentichiamo quanto sia importante essere cordiali, rispettosi e adeguati al contesto in cui ci troviamo. Molte delle cose di cui parleremo potrebbero risultare ovvie, ma spesso le dimentichiamo o non le mettiamo in pratica. Come l'uovo di Colombo. Colombo era appena tornato dalla scoperta dell'America, era al tavolo con personaggi eminenti dell'epoca e sfidò tutti chiedendo di riuscire a mettere in equilibrio un uovo. Tutte le persone provarono con scarsi risultati. Lui a questo punto prese l'uovo e con un colpo secco lo ruppe sul tavolo. Molte delle persone dissero, beh, facile così. E lui rispose, però nessuno ci aveva pensato. Parleremo quindi di come ci si veste, di come ci si comporta, di come ci si pone con gli altri, del portamento. Non inteso come essere alla moda. Certo, un pizzico di fashion non guasta, ma più che altro parleremo di alcune regole che sono eterne, di dettagli che fanno la differenza, la cosa giusta al momento giusto. Nel mondo di oggi imparare ad essere dei veri gentleman vi darà una marcia in più. Nel mondo di oggi imparare ad essere dei veri